Ci troviamo a Marina di Lizzano, provincia di Taranto, Lido Bagnara, località Bagnara e vogliamo parlare delle problematiche dei disabili, della impossibilità per gli stessi di accedere a mare e vedremo alcuni scivoli o pseudoscivoli assolutamente inutilizzabili. Quindi vedete caro sindaco Doria e caro vice sindaco Morelli, si fa per dire caro, pensate un po' che l'estate è per tutti forse questo voi non lo sapete, voi state bene come sto bene io ed è molto facile godersi l'estate, essere felici e guardare il sole, guardare il mare, ma mettetevi nei panni di chi ha una disabilità fisica e può solo sognare di vedere, di toccare la sabbia, di immergersi nell'acqua, perché ci sono delle barriere architettoniche vergognose e schifose che impediscono la possibilità di vivere, che impediscono una vita dignitosa sì, perché una vita dignitosa comporta poter accedere a mare. Signor sindaco, signor vice sindaco, spalancate i padiglioni auricolari, guardate questo scivolo o pseudotale è impercorribile, oltre al fatto che è tutto ricoperto di sabbia e quindi non c'è una definizione proprio del percorso, ma la cosa inaudita è che quando si arriva qui, guardate un po' una povera carrozzella che fine dovrebbe fare, guardate un po' come si interrompe il percorso. Ora qualcuno potrà dire, perché il sindaco e il vice sindaco sono molto bravi, abili a mettere le pezze a colore, ma le pezze a colore con i fessi possono metterle, non con le persone che conoscono i fatti. Si potrebbe dire forse quest'area, questa zona forse potrebbe appartenere a un privato? Potrebbe e non potrebbe, in ogni caso ci sono tutta una serie di strumenti attraverso i quali le amministrazioni possono intervenire, ma non c'è un caspita di scivolo per i disabili in tutta la Marina di Rizzano, questa è la vergogna caro sindaco, caro vice sindaco, potrete dire che da qui l'area è privata, ma non siete stati capaci di individuare una zona, un'area in cui far passare i disabili per andare a mare. Ai disabili si sta negando il diritto, lo ripeto, alla vita, al sole, al mare, alla spiaggia, alla speranza. Signor sindaco, signor vice sindaco, senza scivolo per i disabili si spezzano, si rompono, si violentano le ali della speranza, questa è la verità. Guardate, è molto facile per chi sta bene godere il mare, ma è molto difficile, se non impossibile, poter accedere allo stesso mare ed essere prigionieri nella calura estiva delle barriere architettoniche, essere vittima non solo delle sfortune che Madre Natura ha riservato, ma ancora peggio sono le inefficienze amministrative a creare danni ulteriori alla condizione già precaria dei disabili. Guardate, ora vi faccio vedere, facciamo un altro percorso, è un altro praticamente pseudo scivolo, perché qui non c'è, lo ripeto, uno scivolo per i disabili, non ce n'è uno, è una vergogna. Morelli, Doria, voi dite tanto di difendere i diritti civili. Ma quali diritti civili? Questi non sono diritti civili? E nessuno può dire che io sia uno sciacallo o una persona che vuole speculare sulla disabilità, perché caro sindaco e caro vicesindaco, mia mamma buonanima era una disabile, mio padre buonanima era un disabile e ricordo con affetto come mio padre, quando ancora stava bene, portava a mare mia madre. Facendo scorrere nella mente queste immagini, vi dico che la rabbia è ancora maggiore. Vergogna, vergogna! Si stanno calpestando i diritti dei disabili. A riprova di quanto sto affermando, ecco le testimonianze di alcune persone, si parla di familiari appunto di diversamente abili. Signora, buongiorno, mi pare che lei abbia sua figlia, suo figlio disabile. Sì, sì, nella discesa un giorno per aiutare lui sono caduta io. C'era una cosa buona che purtroppo adesso non c'è più. Mi è stata detta che sono venuti vigili il sindaco, ma non abbiamo visto niente. Come vedete... Come priorità non c'è niente. Come vedete l'amministrazione conosce la realtà, non è che non la conosca. E qui c'è la testimonianza di un'altra signora. Lei mi pare che ha un parente disabile. Sono due parenti disabili e degli anziani in casa e quindi se dobbiamo parlare di barriere architettoniche nel 2020, insomma, dobbiamo ricordare anche che le spiagge di Maria di Lizzano sono state nominate patrimonio ambientale dell'UNESCO. Con quali criteri? Certo, perché un patrimonio dell'UNESCO dovrebbe quantomeno contemplare l'abbattimento delle barriere architettoniche. Qui si tratta di grosse barriere in varie zone della Marina. Esatto. Anche perché poi con gli amici qui abbiamo fatto un giro all'interno qui delle villette dove molti hanno gli anziani chiusi in casa ma soprattutto diversamente abili. Dopo un periodo trascorso ai domiciliari, tra virgolette, perché è giusto che sia così, ma adesso? Dopo il Covid c'è il Covid bis. Esatto, un Covid bis. Solo che il primo Covid purtroppo è stato determinato dalla pandemia, questo invece, questo essere rinchiusi in casa per i disabili è dettato dalle inefficienze dell'amministrazione comunale. Dall'indifferenza, dall'indifferenza. Certo, perché è quella che uccide di più. Esatto, dall'indifferenza. Noi avremmo gradito e gradiremmo che il sindaco così avesse preso e prendesse atto di questa situazione, non solo a parole ma prendendo, come dire, provvedimenti, ma evidentemente, come si suol dire, le trombe di Eustachio fanno tutta una comunicazione. Ciò che entra da un padiglione auricolare esce dall'altro, senza lasciare tracce. Non c'è comunicazione, esatto, probabilmente. Vedete qui, per esempio, una signora che non ha un figlio, un parente disabile, però vedete c'è il problema per il carrozzino del bambino. Questo è un altro impedimento. E quindi familiari di disabili, familiari di anziani, si vedono costretti a unirsi, a coalizzarsi in questa catena di solidarietà per trasportare, per portare a mare nei limiti del possibile i parenti anziani disabili. Sì, ci coalizziamo, ma soprattutto non soltanto i parenti familiari, ma anche amici. Persone sensibili, diciamo. Soprattutto persone sensibili, sì, che aiutano, insomma, a poter arrivare almeno alla riva. Ecco, e c'è un'altra signora la quale diceva, mio marito ha difficoltà enormi a poter scendere. Cammina col girello, però qua non può scendere, infatti vengo sola perché non può venire. Ed è triste poi vedere suo marito rinchiuso in casa, purtroppo. Purtroppo, non si può fare diversamente. O così, lascio a casa, che posso fare? Peccato, perché il mare gli piaceva tanto, però abbiamo la casa e non possiamo venire a mare. Sindaco Doria, vice sindaco Morelli, avete sentito? Non potete dire che io voglio speculare. Questa è la realtà. Sindaco Doria, lei è un medico e dovrebbe avere la sensibilità e capire cosa significa per un anziano vedersi rinchiuso in casa e poter solo sognare il mare. Perché gli anziani hanno dato tanto nella vita, però poi ricevono schiaffi dalle amministrazioni. Abbiamo pagato Bucalossa e non abbiamo niente alla strada, né luce né niente. Questo è un altro discorso, ma al di là... Al comune, al comune a dire questo, perché tante telefonate che il palo è spento all'angolo, niente da fare, il palo ancora è spento. Che zona è signora? Qua le conche, le conche. Quindi nel frattempo abbiamo anche aperto così una parentesi su questa situazione della invivibilità dovuta alla mancanza della luce, ma dicevo, sindaco, è grave che nel 2020 si debbano ascoltare queste cose. Morelli, lei quando era all'opposizione si divertiva a scattare fotografie, a pubblicare video, foto su Facebook, stava lì pronto a immortalare. Ora non fai più questo, caro Valerio Morelli? Ora che fai? Quando qualcuno ti critica su Facebook, clic e blocchi? Ma, penso che alle prossime elezioni saranno i cittadini a bloccarti e a mandarti a casa. Vedete un'altra persona che sta scendendo, una persona anziana, ha enormi difficoltà e il marito si avvicina appunto per aiutarla a non cadere, visto che è già caduta due volte. Ecco, vedete il marito amorevolmente, come è giusto che sia, la prende sotto braccio e fa sì che possa guadagnare l'accesso al mare. Ma andiamo a vedere un altro scivolo. E quindi stiamo facendo un nuovo percorso, perché c'è una pseudopasserella, probabilmente fatta da qualche privato. Guardate qui, altri gradoni. Mi dovrete dire come il disabile, come la carrozzella, ma anche l'anziano. Lasciamo perdere il disabile, ma anche l'anziano. Quali rischi deve correre per superare questi gradini, che sono peraltro belli alti. E vedete, immaginate qui, una carrozzella che vuole guadagnare l'accesso all'altro pseudo-scivolo per disabili. Guardate, la carrozzella dovrebbe immergersi così percorrere tutta questa sabbia e quindi, chiaramente, come dire, arenarsi, sprofondare. Guardate, tutto questo percorso è materialmente e tecnicamente impossibile per una carrozzella, tanto più che coperti dalla sabbia ci sono degli avvallamenti che ovviamente frenano il percorso di una carrozzella. E così ci avviamo, vedete tutto il percorso. Questo sarebbe un calvario, una croce per i disabili, caro sindaco e caro vicesindaco. Queste cose evidentemente non riuscite a comprenderle, lo devo dire, perché se riusciste a comprenderle porreste rimedio a questo schiaffo che viene dato ai disabili, perché è uno schiaffo che viene dato ai disabili impedire agli stessi l'accesso al mare. E vedete, qui poi c'è un altro pseudo-scivolo, probabilmente, cioè questo è un tappetino, vedete così, un tappetino di erba finta, artificiale che è stata messa evidentemente dai proprietari della villetta per poi accedere al mare. Ma vedete, anche qui è una cosa così arrangiata, perché in effetti guardate tutto il percorso e i rischi, ovviamente, gli avvalamenti e come ci si affossa, come si potrebbe appunto sprofondare una cosa fatta così alla bella e meglio. In buona sostanza, la realtà amara è che a Lizzano, una splendida città, una marina meravigliosa, una delle più belle d'Italia, perché bisogna dirlo, e a questa situazione bellissima corrisponde una inefficienza amministrativa gravissima. Vedete, io non sono uno di quelli che nasconde i fatti, perché è molto facile mettere la polvere sotto il tappeto e nascondere. No, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Mi duole il cuore vedere i diritti dei disabili calpestati. Posso parlare da figlio di disabili. E vogliamo concludere dando voce al cittadino, lo facciamo sempre, perché la nostra funzione è quella di amplificatore, di megafono. La signora è innamorata della zona, però ci sono tante carenze. Infatti, basta spostarci di quattro chilometri, neanche Toreovo, c'è tutto, Pulsano, c'è tutto. Qua che siamo in mezzo, io sono sei anni che sono qua, non ho visto nessuna miglioria, anzi, peggio, peggio. Stiamo avendo delle cose proprio... La spiaggia si è rovinata tutta, si è rovinata tutta, con il pericolo delle persone che ci camminano, le macchine, sulla piazzetta non si può andare più. E così concludiamo davvero con una videata sul solito porcile, vice sindaco Morelli e sindaco Doria, siamo in quella che viene chiamata zona Catapano e guardate qui i rifiuti, i sacchetti che giacciono da giorni e giorni. Ci sono gli incivili che li lasciano e c'è l'amministrazione incapace che evidentemente non li fa rimuovere. Signor sindaco Doria e signor vice sindaco Morelli, dimettetevi, perché Lizzano, in queste condizioni ed è evidente, è precipitata nel Medioevo. Un rinascimento potrà avvenire con le vostre dimissioni e con una nuova amministrazione comunale.